Ben ritrovati amici del centro meteo italiano, weekend che inizia con residuo maltempo su alcune regioni, vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 8 gennaio. Molte nuole al mattino con piogge e acquazzoni sparse sulle regioni del sud, neve oltre i 900-1400 metri sui rilievi, asciutto con ampie schiarite al centro nord. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle regioni peninsulari meridionali e sulle isole maggiori, con neve fin verso i 900 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata è notata precipitazione in graduale esaurimento ovunque salvo deboli piogge sulla Sardegna, peggiore a partire dalle Alpi occidentali con neve fin verso i 200-300 metri. Temperature minime in generale diminuzione, massime stazionari al nord e in calo al centro-sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.